Torna a tremare la terra tra la Toscana e l'Emilia Romagna. Due scosse poco prima delle 19, la prima alle 18 e 52. La scossa si è registrata a Premi il Cuore in provincia di Forlì. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata di 3,7 di magnitudo. Una scossa avvertita distintamente soprattutto in Casentino e Valtiberina ma qualcuno l'ha avvertita anche nelle vicinanze della città di Arezzo. Una seconda scossa, una replica alle 18 e 54, leggermente più lieve 2,9 di magnitudo. Le zone dell'Aretino dove le scosse sono state più avvertite sono state quelle del Casentino di Bibiena Stia e Prato Vecchio e di Pieve Santo Stefano in Valtiberina. Per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone.